Ciao a tutti, l'Università di Yale offre un corso sulla felicità. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, una delle più prestigiose università americane, l'Università di Yale, offre un corso sulla felicità e il corso si chiama The Science of Wellbeing e questo corso sulla felicità tratta, diciamo, i vari temi su come costruirsi la felicità, quali sono i presupposti per riuscire ad essere felici. Questo corso è stato istituito perché, secondo gli studi, molti studenti, ma anche molte persone negli Stati Uniti vivono situazioni di infelicità, cioè non riescono, nonostante abbiano molto da un punto di vista potremmo dire materiale, perché è indubbio che gli Stati Uniti forse sono lo Stato con più risorse anche a persona, basta tenere presente che un uomo negli Stati Uniti mangia tantissimo come due o tre europei e come non so quanti africani, per cui, per dire, ci sono, c'è una disoccupazione comunque abbastanza bassa nella maggior parte delle persone, però sono, diciamo, delle situazioni in cui si comunque si coltiva l'infelicità perché si perde un po' un contatto molto profondo che è il contatto con se stessi, con noi stessi. Se noi non impariamo ad entrare in contatto con noi stessi di fatto perdiamo un po' la capacità e la possibilità di essere felici. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti lascio il link in descrizione. Ciao a tutti!